e buona prima ragazzi sono tele con le magiche impressioni sono questo video sempre su football manager anche quest'oggi andremo ad analizzare una tattica che ha funzionato al meglio all'interno di fm22 la tattica in questione è il 4-2-3-1 che Juppainkes ha realizzato per far vincere il triplete al Bayern Monaco come sempre però la tattica la andiamo a vedere più avanti nel corso del video la prima cosa che andiamo ad analizzare in ogni taxi test sono le statistiche dei calciatori che fanno notare che Sané è il capocannoniere della squadra avendo segnato 32 gol in 35 presenza di titolare e 14 subentrato per lui un xg di 26,33 e 14 assist in stagione penso sia superfluo ogni volta a mettere quanto io ami questo calciatore all'interno di fm quindi possiamo andare avanti a vedere le statistiche dove Sané è chiaramente il calciatore che ha anche il voto medio più alto pari a 7,70 una valutazione alle stelle chi ha ottenuto il maggior numero di assist è sempre lui con 14 chi ha ottenuto la miglior percentuale di passaggi completati è Delict con il 97% Sané è stato eletto più volte uomo partita vincendo 9 premi e poi abbiamo 5 ammunizioni per Lucas Hernandez non compaiono gli attaccanti quindi andiamo a vedere le statistiche per Mané 26 presenza di titolare e 10 da subentrato 26 gol e 13 assist con un xg di 18 per Chupo Motting invece 24 presenza di titolare e 11 da subentrato 15 gol e 3 assist con un xg pari a 14,82 Müller invece da buon trequartista ha pensato più a fare assist perché in 47 partite da titolare e 3 da subentrato ha fatto 9 gol e 13 assist in ogni caso anche gli esteri hanno fatto molto bene e poi andremo a vedere anche il perché Neabry ad esempio ha fatto 15 gol e 11 assist poi abbiamo Coman che ha fatto 16 gol e 10 assist e infine abbiamo Musiala che ha fatto 15 reti e 6 assist per quanto riguarda la classifica vinciamo come sempre la Bundesliga ampiamente facendo 85 punti 27 vittorie 4 pareggi e 3 sconfitte facendo 107 gol totali e subendone 29 con una differenza reti di 78 per quanto riguarda le altre competizioni vinciamo le due coppe nazionali ovvero la DFB Pokal e la DFL Super Cup e perdiamo in finale di Champions contro il Liverpool il modulo in questione è un 4-2-3-1 come abbiamo fatto prima i gol degli esterni derivano principalmente da questo signore qua ovvero il fulcro del gioco perché è quel calciatore che chiaramente con Chukomoting e Manet si riesce a fare un po' meno questo gioco Einkes aveva un'altra punta che aveva una caratura e una fisicità nettamente diversa che capite bene si portava via un sacco di uomini e apriva un sacco di spazi oltre che a finalizzare sotto porta Comunque andando con orine in porta abbiamo chiaramente un portiere libero con i compiti di attacco che è quello che fa e specchierà meglio le doti tecniche di Emanuel Neuer i due esterni bassi sono due terzini con i compiti di supporto entrambi hanno come unica istruzione quella di fare più pressing centralmente abbiamo doppio difensore che imposta con i compiti difensivi entrambi con le stesse istruzioni ovvero quella di marcare più stretti i due mediani sono un regista arretrato con i compiti difensivi e un ccq con i compiti di supporto tutte e due non hanno alcuna istruzione aggiuntiva là davanti abbiamo doppia ala invertita sapete quanto io amo questo ruolo nella parte alta quindi nella tre quarti offensiva mentre nel quarto o cinque di centrocampo non amo minimamente l'ala invertita però nella tre quarti è il ruolo che più piace a me entrambe le ali invertite hanno la stessa istruzione ovvero quella di stare più largo cercando così molta più ampiezza il tre quartista a supporto della punta è un centrocampista offensivo che ha i compiti di supporto e non ha alcuna istruzione aggiuntiva la davanti abbiamo il fulcro del gioco con i compiti di attacco senza alcuna istruzione aggiuntiva il lato tattico come vedete non è molto ricco come mentalità abbiamo positiva l'ampiezza di attacco è abbastanza stretta si concentra il gioco principalmente sulle fasce lo stile dei passaggi è poco più corti con un ritmo di gioco leggermente più alto nella tre quarti si fanno cross misti portando il pallone in area di rigore in fase di transizione abbiamo ovviamente fare pressing a tutto campo e contropiede e il portiere la va a lanciare bassa in fase di non possesso abbiamo una linea di pressing più alta con una linea difensiva più alta l'ampiezza difensiva è standard si fa pressing più spesso si impediscono i passaggi corrido e portiere e non si fanno contrasti azzardati per quanto riguarda la disposizione in campo possiamo vedere che la difesa rimane più alta abbiamo il terzino di sinistra che è perfettamente in linea con il difensore centrale di sinistra il difensore centrale di destra rimane un po' più basso e il terzino di destra sta attaccando notiamo chiaramente il regista arretrato che ha compiti difensivi perché rimane molto più arretrato rispetto a tutti gli altri il ccq in questo caso visto che stavamo attaccando si era già staccato per andare a creare superiorità numerica nella tre quarti abbiamo i due esterni alti con l'esterno di destra che rimane più stretto rispetto a quello di sinistra proprio perché da dietro si stava sovrapponendo il terzino di destra quindi gli stava lasciando lo spazio laterale in ogni caso se volesse sovrapporse anche il terzino di sinistra lo spazio c'è perché gli esterni lo stanno lasciando completamente il centrocampista offensivo rimane a fare il centrocampista giunto ovviamente rimane solo a tre quarti il fulcro del gioco rimane in questo caso più distaccato per allungare la squadra arrivando al calendario possiamo vedere che ad agosto vinciamo due partite su tre in bundesliga vinciamo al primo turno di coppa tedesca e vinciamo a rigori la supercoppa a settembre abbiamo tre vittorie e due pareggi ad ottobre abbiamo tutte vittorie e un pareggio a novembre abbiamo tutte vittorie e un pareggio a dicembre abbiamo solo vittorie a gennaio abbiamo tre vittorie e una sconfitta a febbraio abbiamo tutte vittorie a marzo abbiamo tutte vittorie tranne un pareggio ad aprile tutte vinte tranne un pareggio in bundes e una sconfitta in bundes a maggio abbiamo due vittorie e due sconfitte per quanto riguarda il cammino in coppa tedesca vinciamo al primo turno il derby di monaco contro il 1860 di monaco per 3 a 0 al secondo turno andiamo a sconfiggere per 1 a 0 il Borussia Mönchengladbach al terzo turno superiamo per 3 a 0 Leidenheim ai quarti di finale ai tempi supplementari battiamo per 2 a 0 lo Stoccarda in semifinali per 3 a 2 battiamo l'Hofnheim in finali per 4 a 0 alziamo la coppa ai danni dell'Augsburg il cammino in Champions parte nel gruppo D con Barcellona Celtic e Red Bull di Salisburgo concludiamo per secondi con gli stessi punti del Barcellona ovvero 14 vincendo 4 partite pareggiandone 2 e prendone 0 stessi gol fatti ovvero 10 la differenza è che subiamo un gol in più ovvero 3 agli ottavi andiamo e affrontiamo battendo per un 7 a 1 complessivo il Napoli ai quarti di finale troviamo e superiamo per un 6 a 0 complessivo il Tottenham in semifinale battiamo per un 6 a 5 complessivo il Manchester City in finale purtroppo perdiamo contro il Liverpool per l'OMU per quanto riguarda i gol invece andiamo a vedere innanzitutto la partita persa per 4 a 3 contro il City in semifinale di Champions i padroni di casa devono ribaltare il risultato dell'andata quindi partono subito forte con Oland che spacca la traversa e Grealish tutto solo riesce ad insaccarla il secondo gol lancio lungo di Ederson grande sponda da parte di Walker Grealish trovato dalla parte opposta va a segnare il 2 a 0 poi ancora Grealish che ha scatenato la meta di Morchio poi lancio in profondità, Oland spacca la porta e dopo 20 minuti il City è avanti di 3 gol noi troviamo il primo gol al trentesimo con Manet lanciato in profondità supera così Ederson e va a segnare il secondo gol nostro arriva da pala in attiva Gnabry va a trovare pronto sul secondo palo a metterla in rete con il tapino vincente poi ancora alla ricerca della profondità il City va a segnare il quarto gol con Bernardo Silva noi riusciamo a passare nei minuti finali con Müller che trova così un rimbalzo fortuito Sané tutto solo è lui a trovare il tapino vincente la seconda parita che andiamo a vedere è sempre una semifinale questa volta di Coppa tedesca contro l'Offenheim al quinto minuto siamo già in vantaggio con De Ligt che trova Kimmich per via centrali Goretzka lasciato da solo va a trovare l'imbucata giusta per Sané Skov trasforma così una punizione calciata perfettamente e va a trovare il gol del pareggio poi Sané lancia in profondità Gnabry si accentra tutto solo va a concludere sul primo palo poi Sané avanza per le vie laterali Sané va in mezzo la mette con l'Arabona Emanet sottoporta riesce a trovare il terzo gol L'Offenheim accorcia le distanze con il cross dalla parte di destra Kramaric trovato in mezzo riesce a segnare e finisce qui la partita con noi che accediamo alla finale l'ultima partita che andiamo a vedere è il 3 a 2 rifilato al Bayer Leverkusen in campionato andiamo in vantaggio noi sempre con un esterno questa volta è Coman che viene lanciato perfettamente da Krezig e trova così l'1 a 0 al dodicesimo minuto il gol del pareggio del Bayer Leverkusen arriva con un lancio in profondità Azmund va a trovare la gran botta dalla distanza noi torniamo in vantaggio con Gravenberg che la dà a Sar cross in mezzo Ciupo Motting va a occupare così l'area di rigore in mezzo a 3 stacca fin alto Sabitzer lancia in profondità Manier che va ad accentrarsi e va a superare così il portiere l'ultimo gol arriva al novantesimo con Azmund lanciato in profondità supera così Manuel Neuer arrivando quindi a pregi e difetti della tattica il pregio è chiaramente il fatto che se avete degli esterni in squadra che svoltano completamente la rosa questo è il modulo giusto per sfruttarli a pieni regimi tant'è che come avete visto i lanci in profondità sono sempre loro hanno un sacco di campo aperto e quando si trovano davanti al portiere chiaramente riescono a centrare la porta con facilità è chiaro che dovete avere anche una punta che vi sappia aprire bene il campo di contro è che come avete visto difendendo alti chiaramente si concede del campo alle spalle che se si hanno dei giocatori che sono molto rapidi possono andare in profondità facilmente e non si riesce più a recuperarli quindi questo era iel4231 di upaincast io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like commentate e condividete se non ci vediamo in questo video non mette il like bella raga ciao ciao ciao